legati al design e qui vorrei farti fare solo una brevissima introduzione perché come sempre non è detto che tutti i nostri ascoltatori siano abbezzi alle tematiche di proprietà intellettuale giuridicamente intese e tanto più il design che è un po' una creatura particolare nel mondo della proprietà intellettuale perché è una disciplina piuttosto composita, ci può aiutare solo in poche parole a introdurre quali sono le complessità e particolarità del design? Sì, allora il design possiamo dire anche che storicamente è l'ultima forma di creazione che è stata inserita nel compito delle opere tutelate dal diritto d'autore ma parallelamente anche ha sempre avuto una forma di tutela invece più simile a quella del brevetto per invenzione e quindi ha questa doppia anima possiamo dire, quindi a seconda che l'opera di design sia più mirata alla produzione industriale, alla sua usabilità e particolare facilità di utilizzo e gradevolezza nella sua estetica e quindi così tutelata con il design inteso in senso classico, quindi più vicino al mondo dei brevetti se invece l'opera di design ha una valenza che può essere anche artistico-espressiva quindi non lo so, adesso c'è il classico caso della Vespa oppure della Vespa Piaggio oppure di particolari oggetti d'arredo che hanno un'iconicità e un impatto artistico creativo maggiore di altri allora quelli possono assurgere anche allo status di opera dell'ingegno nel senso più puro del termine quindi di fatto vengono tutelati con un diritto d'autore al pari di un'opera letteraria al pari di un'opera musicale e di una fotografia in più il design è una di quelle creazioni che sono tutelate appunto dal cosiddetto cumulo di tutele cioè ci sono vari strati di tutele che si possono applicare, due li abbiamo già detti ma un altro importante è quello del marchio di forma nel senso che un modo per tutelare la forma di un oggetto oltre appunto a registrarla come design o a cercare di fare qualcosa di raffinato per elevarlo a opera dell'ingegno è anche quello di depositarlo, registrarlo come marchio di forma cioè un marchio che si basa proprio sulla forma dell'oggetto stesso anche qui un esempio abbastanza di scuola che fa capire qual è la questione è quello delle forme delle bottiglie, degli alcolici o dei profumi le bottiglie di alcuni alcolici, senza fare i nomi, alcune molto famose sono anche senza l'etichetta diciamo particolarmente riconoscibili cioè tu capisci già che cosa c'è dentro a distanza di 50 metri anche se non hai ben letto il marchio però il marchio è già in sé nella forma della bottiglia e quello appunto viene chiamato marchio di forma e quindi di fatto è un modo anche per tutelare progetti di design il design di una bottiglia o di un oggetto o di altro non so, di una bottiglia di profumo, di alcolici o non so, gli automobili anche alcune caratteristiche, alcune non so, portiere il musetto di una certa automobile, l'alettone, lo spoiler cioè a seconda di quanto sono caratteristici, possono anche essi essere intesi come marchio di forma e quindi anche lì abbiamo questo cosiddetto cumulo di tutele quindi una stratificazione tra la tutela classica del disegno industriale quindi il disegno registrato, il diritto d'autore solo in quei casi in cui l'opera di design ha un particolare valore creativo artistico e quindi è una, diciamo in fascia alta che ha un particolare gusto, ha una particolare iconicità quindi diventa anche opera dell'ingegno e se viene poi registrata come marchio di forma anche la tutela del marchio questo è un po' il... quindi facciamo presente come hai già segnalato tu che c'è un gradiente, possiamo dire ulteriori rispetto alle altre opere dell'ingegno per la parte del diritto dottore cioè hai chiesto un vaglio sostanzialmente o comunque una valutazione il valore artistico non è quello tra virgolette comune ma è qualcosa in più perché in tutte le... cioè se sono più o meno dieci le categorie di opere dell'ingegno quelle previste nell'articolo 2 della legge sul diritto d'autore il design è proprio il punto 10 perché è stata introdotta proprio storicamente per ultima all'inizio degli anni 2000 è l'unica in cui viene chiesto anche il valore artistico ed è interessante perché fino a quel momento in realtà la legge sul nostro diritto d'autore non si era mai spinto a interrogarsi su cosa fosse valore artistico o meno cosa fosse arte o meno lo lasciava valutazioni più appunto legate al mondo della storia dell'arte della critica d'arte al diritto d'autore normalmente basta il carattere creativo quel requisito fondante del diritto d'autore che è carattere creativo inteso come la somma di originalità più novità questo è l'approccio classico che la nostra scienza giuridica ha sviluppato in anni e anni di giurisprudenza e di dottrina gli americani gli angoli americani hanno un approccio un po' diverso anche loro parlano di creatività però intesa come la somma tra skill labor and judgment che è ancora diverso come approccio molto interessante però ecco qua nella tutela del design si chiede il valore artistico e lì si va su un ambito che è molto scivoloso perché che cosa sia arte o meno è un tema insomma delicato che attiene a esperti che hanno un certo tipo di gusto è sempre contestualizzato rispetto al momento storico c'è certe cose che vengono percepite come geniali in un certo momento storico adesso sarebbero banali e viceversa io faccio appunto lezioni a volte appunto in accademie d'arte in accademie di belle arti come è stato in queste ultime settimane insomma lì sanno meglio di me che cos'è arte però a volte l'arte è anche una provocazione il caso che esempio è del film di Aldo Gianni e Giacomo la famosa frase ma il mio falegname con 30 me la lire la faceva meglio questa è la battuta che io ogni tanto utilizzo nelle slide per creare un po' di larità però per far capire che l'arte è molto più soggettiva mentre per la ricerca del carattere creativo abbiamo sviluppato una serie di parametri in circa due secoli di giurisprudenza per capire se appunto c'è o non c'è carattere creativo in un'opera sul design è una frontiera nuova ma il bello è che nonostante sia nuova già è stata messa in crisi perché come stavamo dicendo prima pare che ci sia un nuovo orientamento giurisprudenziale in sede europea di corti di giustizia che va un po' in controtendenza rispetto alla scelta italiana di chiedere anche il valore artistico per cui in teoria anche se si segue se si conferma questo orientamento anche per le opere di design il diritto d'autore andrebbe riconosciuto con il mero carattere creativo senza andare, senza doversi avventurare nella ricerca di questo famigerato valore artistico grazie a tutti